Il 16 ottobre 2021, dirigenti, quadri e personale competente della Milano Serravalle sono stati invitati dai loro nuovi Presidente Dottor Mediamino Lopresti, amministratore delegato Dottor Pietro Poiardi, a condividere un'esperienza motoristica e paesaggistica nell'area di Fortunago, uno dei bordi più belli d'Italia, in questo territorio costellato di castelli, pievi, rocche, palazzi e chiese, qual è l'oltrepopavese. L'ho letto nei vostri volti, tra loro un po' meno, particolarmente i fauliti, ma ciò nonostante comunque i partecipativi, la gioia è il piacere di condividere con noi oggi. Il primo giorno del Pignovino mi ha prospettato la possibilità di trovare un'experience a partecipare, ho detto, spiegami meglio. Io pensavo di andare ad Amsterdam. Ho cercato il piede prima di farmi declinare meglio per non finire subito sui giornali. Questa è un'opportunità che credo sia unica per poter creare quella confidenza che non deve come essere prima Napoli diventare il padrone della malacreanza, ma deve essere un padrone che ci permette giorno per giorno di lavorare senza pregiudizi e fare veramente prima squadra, noi potremmo essere squadra, poi tre femminili. Gli invitati si sono alternati sul sedile del navigatore delle due Porsche 911 Carrera RS della Scuderia Ova Corse, guidate da Matteo Musti e dallo stesso Beniamino Lopresti. L'iniziativa Finalizzata in fondo era un più saldo legame e proficuo spirito di squadra fra dirigenti e quadri Con in testa l'amministratore delegato dottor Pietro Boiardi Si è svolta con la collaborazione dell'Automobile Club di Pavia Oggi finisce 1-1 per il presidente amministratore delegato perché il pisto ha vinto lui A tavola vinto A tavola vinto